Quest'anno tutti a scuola con Buzz, Woody e tutti gli eroi di Toy Story 2! Lo zaino di Woody e Buzz è spaziale! Con il suo schienale anatomico e la maniglia pesa zaino si può stare tranquilli! La scuola di Toy Story 2 è auguri mondadori! Corri come il vento, Bullseye!